Ed ecco proprio l'immagine dell'incontro col Papa che ha voluto andare, vedete con l'ausilio di un bastone, a ricevere Zelensky all'ingresso e qui è dove si è svolto l'incontro. Zelensky aspetta che si sieda il Papa, poi evidentemente non è quello che è successo, gli viene presentato l'interprete e queste sono le prime fasi dell'incontro.